Nel pomeriggio del 30 dicembre sulla superstrada Ferrara Mare, una tragica vicenda ha portato alla morte di Martina Miani, una ragazza di 26 anni originaria di Savignano sul Panaro, Modena. Miani stava viaggiando verso Massa Fiscalia per trascorrere il capodanno con il fidanzato quando ha perso il controllo dell'auto sfondando un guardrail ed ha finito in un fosso. Il fidanzato, preoccupato dal suo mancato arrivo, ha avvisato i genitori dando il via alle ricerche. Il corpo della giovane è stato rinvenuto senza vita molte ore dopo l'incidente, intorno alle 22.40, intrappolato nell'auto. Il passaggio della sua vettura era stato registrato al casello dell'autostrada 13 alle 17.15, indicando che l'incidente potrebbe essere avvenuto tra le 17.20 e le 17.30. Un'indagine sarà condotta per determinare l'esatta dinamica del sinistro. La comunità è colpita dalla tragica perdita di Martina.